E' stato trasportato in ambulanza ubriaco fradicio, ma una volta arrivato al pronto soccorso all'ospedale di Pescia ha seminato il panico sia tra il personale medico che tra i pazienti in attesa di cure. Protagonista del pomeriggio di Foglia è stato un uomo di origini laziali di 45 anni. I volontari del 118 lo avevano recuperato un'oretta prima da una via centrale di Montecatini, dove in preda ai fumi dell'alcol stava infastidendo molti passanti. Fino a che è rimasto immobilizzato alla barrella dell'ambulanza, tutto bene, ma all'arrivo in ospedale è successo il finimondo. Prima ha rifiutato violentemente le cure del personale medico, arrivando a ferire lievemente un infermiere al viso con una manata. Poi ha continuato la sua follia, scagliandosi contro dottori e operatori. Il personale medico ha cercato in tutti i modi di calmare il 45enne, non riuscendo comunque nell'impresa. E una volta chiamato i carabinieri, l'uomo si è scagliato con violenza anche contro i quattro militari occorsi sul posto. Non appena sono arrivati i carabinieri, la situazione è, se possibile, peggiorata. Il 45enne si è scagliato contro uno di loro e con una testata lo ha centrato in pieno volto, rompendogli il setto nasale. Solo a quel punto i carabinieri hanno avuto la meglio e sono riusciti ad immobilizzare il folle tra l'incredulità e il panico generale di mezzo ospedale, messo in stato di allerta dalle urla e dai tonfi provenienti dal pronto soccorso. Alla fine il 45enne è stato arrestato con l'accusa di minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria poi ha convalidato l'arresto con il fermo nel carcere di Pistoia.